Altri due appuntamenti per il mercato serale di Battipaglia e quanto si apprende dall'ordinanza emessa dalla sindaca Cecilia Francese che ha accolto la richiesta presentata dall'Associazione Mercat. Una scelta legata agli ottimi numeri registrati nelle precedenti serate tenutesi nel mese di agosto e finalizzata ad invertire il forte trend negativo che vive il commercio ambulante negli ultimi tempi. Il mercato, come previsto dall'ordinanza, si terrà lunedì 3 e lunedì 10 settembre dalle ore 17 alle ore 24.